Proverò a spiegare in pochi minuti cos'è il progetto Foodloft. In realtà da anni ci ho in testa di mettere insieme tutte quelle che sono le richieste che normalmente vengono fatte dai brand, dalle agenzie, quindi dai miei clienti, per creare eventi di ogni genere. Quindi questo è lo spazio. La parte eventistica si svolge al centro, quindi team building, cene di gala, show cooking, presentazioni davanti al maxi schermo, ma il cuore ovviamente è sempre la cucina, anche se si può sempre tagliare ed escludere dalla location. Due cucine set. Questa è la mia cucina city, il set più grande anche con il passante da dietro. Io qua produco tutte quelle che sono le trasmissioni per Sky gambero rosso, ma affittiamo tranquillamente la location per produzioni video di qualsiasi genere, tipo spot televisivi o telepromozioni con di solito genere cucina. Secondo set, un po' più piccolo, effetto casalingo, effetto loft, appunto, per produzioni web principalmente, quindi clip da 30 secondi a 3 minuti, prevalentemente per attrezzature da cucina o food, semplicemente, ed entrambi i set diventano anche basi stage per fare show cooking, dove io mi posiziono qui, o chi per me, produce la demo del piatto, maxi schermo, che nell'area grande fa vedere i dettagli per poter fare o la cena di gala con spiegazioni dei piatti, o perché no, un team building dove chi lavora può seguire, magari da più lontano, sul maxi schermo, i dettagli, magari di un taglio sul tagliere o di una cottura in padella. Tutta attrezzata, fornita di qualsiasi tipo di accessorio, piastra induzione e piatti di ogni genere. La posizione dei due set cucina in fronte alla sala è molto comoda per tutto quello che è lo show cooking, quindi qua si preparano le demo, ma adesso non ve la faccio vedere perché è il mio luogo segreto, c'è una cucina professionale al food loft che produce ovviamente il vero cibo, quindi i piatti che poi escono e vengono serviti per tutti i commensali, dalle 100 alle 120 persone sedute, gala massimo, o fino a 300 persone se si parla di un aperitivo in piedi. Qual è il valore aggiunto della location? È la velocità, la semplicità di organizzazione. Un solo interlocutore che si prende la briga di fare la creatività, l'organizzazione, sia del food sia della regia, quindi impianto audio, service, video, hostess. E quindi tutto compreso nella stessa location è tutto studiato già dapprima perché funzioni sotto quelli che sono gli aspetti e le necessità che questo tipo di eventi richiedono, quindi dall'accoglienza al buon risultato del cibo, all'igiene, perché no, che spesso in altre location adattate per un evento queste peculiarità non si possono rispettare. Ovviamente la location è supportata e spinta da un portale www.foodloft.it dove all'interno oltre a videoricette e piatti che noi testiamo, elaboriamo e fotografiamo internamente, produciamo anche altri contenuti e soprattutto sia legati alla location sia legati a me in prima persona come chef. La location si autobrandizza con una chiavetta USB, quindi il brand è basta che porti il proprio logo e quindi i colori e il logo stesso vengono riprodotti in tutte le parti multimediali che ci sono all'interno e all'ingresso della location. Mercoledì 24 febbraio dalle 10 alle 18, per voi che ci ascoltate dopo domani, la location è aperta per un open day, per far visitare, far sbirciare in tutti gli angoli nascosti, ancora non visti da queste telecamere, il foodloft in totale libertà e bevendosi anche un bicchiere di vino. Per chi non potesse venire a trovarci mercoledì potete tranquillamente scaricare il tutto, la carta alla stampa, le foto e i contatti ovviamente su www.foodloft.it. Vi risponderà Saverio che è il mio location manager e per quanto riguarda la creatività dell'evento ci penso direttamente io, Simone Lugati. Vi aspetto!